Questo è Tutto Grano, pronto per essere raccolto. Sono 52 miliardi di euro destinati dalla politica agricola comunitaria all'Italia nel periodo 2014-2020. L'agricoltura è una delle voci principali del bilancio economico dell'Unione Europea. Attraverso i piani agricoli comunitari che durano 7 anni, a questo settore vengono destinati miliardi di euro sotto forma di sussidi. La politica agricola comune, detta anche PAC, varata nel 1962, serve a sostenere il settore e la produzione agricola. Nel piano precedente, 2014-2020, l'Europa ha stanziato 409 miliardi di euro per tutti i paesi dell'Unione. Secondo lo studio della fondazione Henrik Boll, la politica del sussidio legato alla superficie agricola e non per lavoratore impiegato ha finito per mandare tre quarti dei finanziamenti all'agricoltura intensiva, senza sostenere l'occupazione. In questo modo, nelle regioni in cui l'economia prevalente è quella agricola, i finanziamenti hanno portato le aziende del settore ad avere sempre più terreni con monoculture, con conseguenze sul dissesto idrogeologico. La diversificazione delle culture insieme all'agricoltura sostenibile, invece, potrebbe incentivare nuova occupazione e filiere e al tempo stesso proteggere i territori ed evitare lo spopolamento nelle zone interne. Una riflessione sul prossimo piano 2021-2027 da 365 miliardi di euro in discussione a Bruxelles diventa necessaria per evitare errori già evidenti.